La Saluppa? Ma dove sono? Saranno non entro te. Ok, Piano. Oddio. Ok. 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 Posso farcela? Oddio. Ok. 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 Lo zaino di Sam Sam Sono passati per di qua Sam Rot Qualcuno mi riceve Devo trovarli Grazie a tutti Qualcuno mi riceve. Per favore, rispondete. Per favore, rispondete. Per favore, rispondete. Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara Croft, nel suo habitat naturale. È in cerca del regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiko, regina del sole e mia illustre antenata. Sam, piantala. Tesoro, lo so. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta. Lo sento. Ma non so se mi daranno retta. O se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Sul serio. E non lo dico solo per confortarti. Io credo in te. E anche Rot. Sei in gamba. Ora facciamo una pausa. Ok, ok. E Sam? Grazie. Non è sempre così musona. Mi accusi di non prendere sul serio questa spedizione, Lara. Oltre ai fondi della famiglia di Sam, ci sono anche i miei. La spedizione interessa a tutti. I fondi non dureranno in eterno, Whitman. Ecco perché dovremmo puntare a est e non a ovest. Nessuno crede... Nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est. I libri dicono tutt'altro. Libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Ne ho già parlato con Rot. Non ha alcun senso seguire piste già battute, Whitman. Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco. Qui sono io, il capo archeologo. Tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva. Al seguito. Ho trent'anni d'esperienza e due dottorati, di cui uno in storia asiatica. Tu pensa alla barca, Grimm. Nave, dottor Whitman. Si chiama nave. Non serve un dottorato per sapere. Senti, proseguendo a est entreremo direttamente nel triangolo del drago. È quella la nostra meta. Lara, tesoro. Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta aria. Brute tempeste. Il triangolo delle Bermuda sembra Disney World. Chi sto. La leggenda vuole che la regina Emiko potesse scatenare tempeste. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo. Ecco, questo è il triangolo del drago visto dal satellite. Non molto invitante. Almeno c'è acqua per navigare. Non ditemi che siete... Reyes ha ragione. I nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un bivio. Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano. Il capitano qui sono io e questa è la mia decisione. Faremo rotta per il triangolo del drago. Non posso crederci. Non posso starmene qui. Troverò qualcosa da annunciare. Oddio. Dove sono finita? Sì. Posso usare quell'acqua? Posso farcela. Vediamo se funziona ancora. Ricorda gli insegnamenti di Roth. Tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione. Concentrazione. È questo il segreto per usare qualsiasi arma. Ho fame. Devo mangiare qualcosa. Ho fame. Ho fame. Ho fame. Perdonami. 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 Bene, torniamo al campo. Sai, Lara, spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti torni. Impara a leggere la Terra e la Volta Celeste per ritrovare sempre la via di casa. Perdonami. 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 Calma. Stai bene? Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovata in una caverna. C'era... C'era un pazzo, Rod. E ho visto un cadavere. Oh, Cristo. Ora dove sei, Lara? Stai bene? È stato terribile. È colpa mia. È tutta colpa mia. Lara, ascoltami. Ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'Endurance. Speriamo che qualcuno lo riceva. Ho parlato con gli altri. Ci raduniamo qui da me. Ti prego, vieni a prendermi. Devo restare qui. Puoi farcela, Lara. Mi ricordi la scalata dello Snowden? Il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto avanti. Sempre avanti. Sali in quota attraversando le antiche rovine. Mi chiedi la radio accesa. Ok.